e voilà ciclo pedalando siamo arrivati a via reggio insieme gli amici di intesa san paolo siamo qua al giova beach party bene un sacco di colori siamo in spiaggia la caratteristica che è invece che nei soliti palazzetti siamo nella spiaggia spiaggia pubblica di fronte abbiamo il mare abbiamo il sole un sacco di persone milioni di persone al di fuori del cancello che aspettano di entrare in questo in questo luogo di fiesta adesso lo vedete deserto ma tra poco lo vedrete full io ho il privilegio di essere entrato per primo allora mi andrò a godere tutto quello che c'è da vedere andiamo prego avete un sacco di gente al lavoro qua che prepara il concerto saranno un migliaio di persone che allestiscono preparano telecamere strumenti musicali poi io beh non ci capisco fin di tanto perché so solo pedalare come stai bene bene sto bene ho prima fatto un tour fatto da milano a padre pio pedalando ma io adesso fino a forza spero ottobre di partire faccio un giro voglio fare sudamerica per traverso tipo la patagonia no da lima a buenos aires diciamo lui va in solitaria con la bicicletta ragazzi ma non è che sono l'unico al mondo è pieno di gente che va in solitaria però tu te la fai veramente con una gopro non hai cameraman come me che deve come tu da solo la musica l'ascolti no poi in bicicletta è pericoloso ascoltare la musica in generale io sono un ciclista devo dire abbastanza prudente da quel punto di vista casco e mai le cuffie sto attento insomma no anche perché poi in quelle situazioni lì farsi male è sempre una cosa evitare cioè ti faccio vedere la bici detto fatto la spiaggia si è riempita il party sta per ricominciare allora che dire basta con le immagini ascoltiamo buona musica e a condurre il tutto ci sarà il mio collega ciclista lorenzo cherubini giovanotti ciao ragazzi